Azione delle forze dell'ordine dopo il boom di segnalazioni di spaccate che prendono di mira le auto in sosta all'Arcella e alla Stanga. Un controllo a tappeto della polizia sugli stabili abbandonati in zona fiera ha fatto rintracciare un trentenne tunisino che dormiva in un giaciglio di fortuna accanto a dei capi di vestiario che corrispondevano a quelli di cui era stato denunciato il furto da un'auto in sosta poche ore prima. Già destinatario di un divieto di dimora in Veneto è stato denunciato per ricettazione che si aggiunge i precedenti per furto e invasione di edifici. La polizia locale ha intanto attivato un servizio potenziato di presidio e controllo della Stanga e del rione Pescarotto. Il potenziamento coinvolge personale specializzato del reparto di polizia giudiziaria, gli agenti motociclisti e personali a piedi della polizia di prossimità.